E ora parliamo di reti di imprese e anche delle opportunità che queste rappresentano proprio nell'ottica dell'uscita dalla crisi. Ascoltiamo il presidente della regione, Spacca, che ha preso parte ad un incontro a Roma voluto da Confindustria e appunto proprio da Rete Imprese. Oltre 70 bandi e 1,28 miliardi di euro di risorse stanziate nell'ultimo quadriennio. Sono le cifre che fotografano il grande impegno delle regioni italiane a sostegno delle reti di impresa. Ad illustrarlo, il presidente della regione Marche e coordinatore della commissione attività produttive della conferenza delle regioni, Gian Mario Spacca, nel corso del suo intervento alla terza giornata delle reti di impresa organizzata da Confindustria e Rete Imprese. Uno strumento fondamentale per ripartire. Questo strumento di contratti di rete e dell'aggregazione di rete è stato voluto dalle regioni, incentivato dalle regioni, attraverso delle misure ad hoc appropriate che hanno toccato 1,2 miliardi di euro in tre anni, proprio per aiutare le micro e piccole imprese a superare il nanismo, le piccole dimensioni e micro dimensioni che non consentono loro di essere competitivi sui mercati internazionali oppure fare quei processi di innovazione che possono migliorare le loro performance. E la regione Marche è al centro del progetto Rete Imprese. La nostra regione ha fatto largamente ricorso a questo strumento delle reti di impresa, dei contratti in rete, proprio perché noi siamo una regione di micro e piccole dimensioni e questa aggregazione consente di raggiungere soglie critiche per correggere o intervenire nei meccanismi di mercato e quindi acquisire maggiore competitività.